Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi parlerò delle undici dimensioni dell'universo secondo la M-theory. Però prima iscrivetevi al mio canale, mettete like al mio video e condividetelo se vi è piaciuto. Ok, preparatevi perché vi spiegherò le undici dimensioni dell'universo. Allora, ci sono varie teorie che spiegano le dimensioni dell'universo. E una di queste è la string theory, che è diciamo la teoria base di the M-theory and the bosonic string theory of 26 dimensions. Quindi the bosonic string theory ha 26 dimensioni. M-theory undici e string theory dieci. Ok, quindi sono varie teorie. Oggi vi spiegherò quelle del M-theory, ok? Che praticamente è una teoria incompleta. Cerca di combinare le cinque teorie delle super string e la super gravità a undici dimensioni. Le prime tre dimensioni sono abbastanza ovvie per noi, perché ci viviamo dentro. Ok, quindi dalla quarta dimensione in su le cose iniziano ad essere un po' più particolari. Noi prendiamo sicuramente anche per scontato le tre dimensioni in cui viviamo. Noi viviamo nella terza dimensione, che è composta dal spazio e dal tempo. Quindi ovviamente il tempo è lineare, quindi va sempre in avanti per poter far sì che le cose cambiano. Già nella quarta dimensione il tempo può essere controllato. Qui non lo possiamo controllare il tempo, quindi va solo in una direzione. Nella quarta dimensione si può controllare il tempo e quindi potresti andare nel passato, nel futuro e nel presente. Iniziamo con la zero dimensione, che è un punto singolo. Non ha né larghezza, né altezza, né profondità. E' soltanto un punto, e questa è la zero dimensione. La prima dimensione sono due punti, ok? Però non hanno né altezza, né profondità. Quindi solo larghezza. Quindi andiamo da un punto a un altro punto. E abbiamo una linea retta, ok? Abbiamo una linea retta che non ha profondità o altezza. Quindi se qualcuno vive nella prima dimensione, che in realtà non si potrebbe, perché noi essendo un corpo tridimensionale non potremmo vivere nella prima dimensione. Ma per darvi un esempio, se noi viviamo nella prima dimensione, possiamo andare solo in avanti, proprio nello spazio. Quindi non potresti andare né a destra né a sinistra. Puoi andare solo in avanti, in una linea dritta. Ad avanti e indietro, ovviamente. In una linea dritta, ok? Questo sarebbe la prima dimensione. Nella seconda dimensione ci sarebbero soltanto figure piatte, come triangoli o quadrati, ok? O cerchi, che non hanno né volume né profondità. Però hanno altezza e hanno lunghezza. Ok? Ma sono piatte. Un buon esempio è tipo lo schermo del telefono. Ma soltanto lo schermo, non il telefono perché ha una profondità. Ma soltanto lo schermo è una seconda dimensione, per esempio, perché è piatta. Quindi se una persona vive in questa dimensione, può andare avanti, indietro, destra e sinistra, ma non c'è profondità, ok? O volume negli oggetti. Gli oggetti sono soltanto piatti. Terza dimensione è dove viviamo noi. C'è tutto quello che noi vediamo a un'altezza, larghezza e profondità o volume. Possiamo muoverci nello spazio, avanti, indietro, destra, sinistra e anche su e giù. Ok? Quindi abbiamo pieno controllo dello spazio. Stiamo in un corpo tridimensionale con altezza, lunghezza e profondità. Però non possiamo controllare il tempo. Nella nostra dimensione il tempo è solo lineare, va solo in avanti. Non possiamo andare né nel passato né nel futuro. Possiamo solo stare in questo punto del tempo e andare in avanti. La quarta dimensione è il tempo. Ok? Quindi se qualcuno vive nella quarta dimensione, potrebbe andare sia nel passato che nel futuro. Perché potrebbe controllare il tempo, come noi controlliamo lo spazio. Possiamo andare avanti, indietro, destra, sinistra, su e giù. Perché riusciamo a controllare. Rialmente nessun essere umano vive nella quarta dimensione. Fino alla quarta dimensione noi riusciamo a percepire sia lo spazio che il tempo con i nostri sensi. Le altre dimensioni iniziano ad essere molto bizzarre. Nella String Theory dicono che l'unico modo in cui può esistere la teoria dei string è se ci sono 10 dimensioni. Però io vi sto spiegando la M Theory che ha 11 dimensioni. Dopo la quarta dimensione dicono che gli universi sono tipo arrotolati tra di loro. E che noi siamo come delle formiche che camminano su una bottiglia d'acqua. E la bottiglia d'acqua sarebbero le dimensioni dalla quinta alla dicesima tutte arrotolate tra di loro. Se noi camminiamo da un punto all'altro finiamo sempre poi finiamo sempre tipo nello stesso punto. Ok quinta dimensione qui sono compatte tra di loro sia arrotolate tra di loro chiamata compatificazione. Per questo non possiamo percepirle e saremo come la formica o come se stiamo attraversando un ponte dove ci sono delle corde. Noi vediamo la lunghezza della corda ma se ci avviciniamo come una formica possiamo vedere che la corda ha altezza, profondità e lunghezza e anche altri tipi di dimensioni. Ma da lontano non possiamo vederle queste dimensioni perché siamo troppo lontane. In questa dimensione puoi muoverti nel tempo, passato, futuro e puoi anche essere in due posti diverso allo stesso tempo. Puoi essere tante persone allo stesso tempo tipo puoi essere un dottore, un ingegnere, un infermiere nello stesso momento. Ora andiamo alla sesta dimensione. Puoi muoverti nel tempo ma puoi prendere forme anche multiple nello stesso momento nel tempo. Cioè come nel mondo quantico dove tutto funziona sulla probabilità e che una particella può essere in un posto diverso allo stesso tempo. C'è più flessibilità, puoi muoverti nello spazio, tempo ed avere anche varie possibilità di esistenza. Qui entriamo nel mondo dei universi paralleli o dei multi universi nel tempo. Però hanno tutti gli universi uno stesso inizio che sarebbe il Big Bang. Quindi anche se ci fossero dei universi paralleli, nella sesta dimensione iniziano tutti dal Big Bang o dall'inizio della creazione degli universi o dell'universo nostro. Invece nella settima dimensione possono avere anche inizi diversi. Quindi inizia ad essere un po' più complicato. Nella settima dimensione ci sono universi paralleli, universi infiniti. Quindi nell'ottava dimensione non c'è nulla di fisico ed è tutto, tutto, tutto energetico. Quindi non si può toccare niente, nulla può essere toccato perché è tutto energia. Non c'è forma fisica in questa dimensione come il mondo, diciamo, digitale. Noi sappiamo che esiste ma non possiamo toccarlo, cioè non puoi toccare Facebook o toccare Instagram. Però sappiamo che esiste. È un po' così. Nonna dimensione è dove ci potrebbero vivere degli alieni o delle civiltà diverse dalla nostra. Quindi come dicono Pleiadians, Androgymenians, quindi diverse civiltà di esseri in diversi universi paralleli o infiniti, insomma, con creazioni diverse. Quindi nell'ottava dimensione c'è questa probabilità. Potrebbero vivere queste persone o alieni nello stesso momento nostro, però senza sentire o vedere la presenza di altri. Quindi è come se loro potessero venire qui ma noi non possiamo percepire o vedere la loro esistenza. Quella nella nona dimensione potresti essere inconsapevole dell'esistenza di altre civiltà o alieni. Se qualcuno può vedere dalla nona dimensione invece potrebbe vedere tutte le civiltà, tutti gli universi e tutto in un momento. Ok? Quindi avrà veramente dei superpoteri. Una persona che vive nella nona dimensione potrebbe anche muoversi in diversi universi quando vuole. Ovviamente non ha una forma fisica e potrebbe viaggiare in tutti gli universi. Quindi potrebbero avere delle leggi fisiche molto diverse. Non so, a volte io penso. Cioè magari c'è un altro pianeta, tipo con altri elementi con cui magari può vivere un altro aspetto. Che la decima dimensione e la undicesima dimensione sono abbastanza complicate e stranissime. Quindi nella decima dimensione ci sono infinite possibilità. È veramente troppo complesso per capirlo. Questa entità che vive nella decesima dimensione, che potrebbe essere Dio, ha poteri infiniti, può controllare lo spazio, il tempo, le possibilità degli universi, gli universi e praticamente tutto. Nell'undicesima dimensione è come se non ci fosse la undicesima dimensione, tutti gli universi si potrebbero collassare tra di loro. Secondo la bosonic theory ci sono 26 dimensioni, ma alcuni scienziati dicono che sarebbero veramente troppi e quasi impossibile. Diciamo che tutto ha origine dalla undicesima dimensione che sarebbe Dio, in questo caso. Quindi anche nella fisica ci sono queste teorie che sono abbastanza complesse, però molto interessanti anche da studiare. Ci portano a pensare che magari nel nostro universo ci sono diverse dimensioni, molto molto particolari tra di loro. Quindi l'undicesima dimensione sarebbe veramente Dio, che ci sono infinite possibilità, infinite probabilità. Spero che vi ha fatto riflettere questo video, che vi è piaciuto. Commentate giù con le vostre opinioni, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video.